Il principe di Galles, comandante aereo onorario della RAF Coningsby, ha visitato la base per conoscere le future innovazioni tecnologiche e aprire un nuovo club di box, ha dichiarato la famiglia reale. I fan reali hanno elogiato il principe William per il suo brillante impegno alla RAF Coningsby dopo aver visitato la base per conoscere le future innovazioni tecnologiche. Il principe di Galles, 40 anni, ha incontrato lo staff e le loro famiglie durante la sua visita e ha anche aperto un nuovo club di box, una dichiarazione della famiglia reale affermava. Durante la visita, sua altezza reale ha trascorso del tempo nel centro di controllo del traffico aereo per ascoltare il progetto Marshall, un programma di aggiornamento delle attrezzature multimiliardario dei servizi radar di controllo del traffico aereo in tutto il Lincolnshire. Mentre era al centro, Feprins ha anche incontrato il personale e gli sono stati mostrati nuovi display radar e sistemi di controllo che sono stati messi in atto per migliorare l'efficienza e aumentare la condivisione dei dati. Quando la famiglia reale ha pubblicato le foto del principe. William in visita alla base, chiacchierando con le famiglie e comprendendo la tecnologia, i fan del duca hanno subito applaudito per lui. Un utente di social media Chiocciola Marevansotor ha dichiarato, Tu e la principessa siete un'ispirazione. Si prega di mantenere l'incredibile presenza di cura e servizio. Siamo con te. Un altro utente Chiocciola Royalli Belle ha twittato, Brillante impegno e così bello vedere tutto il supporto per il nostro principe. Un terzo utente Chiocciola Prem trattino basso per Uma l'ha dichiarato, Congratulazioni principessa del Galles, è una cosa meravigliosa incontrare e incoraggiare persone come questa e le loro famiglie. Il nuovo club di box aperto dal principe William è situato nel cuore della base RAF e crea un luogo centrale dove il personale può recarsi per esercitarsi. Il club è anche un'estensione di una popolare offerta di coaching di box durante la pandemia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.